Di fatto, ve la dico in maniera un po' cruda, state brutalizzando la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione. Per cui oggi è il giorno più triste dall'inizio di questa legislatura. E allora invito i rappresentanti del Partito Democratico a compiere un gesto, almeno uno, di rispetto e di dignità. Al Palazzo dei Gruppi Parlamentari, terzo piano, c'è una sala intitolata Enrico Berlinguer. Domattina, in silenzio, rimuovete quella targa. Grazie. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2.994A, riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione. La nuova comunità! La nuova comunità! I colleghi! I massiotti! La nuova comunità! La nuova comunità! La nuova comunità! Lavorevoli 316, contrari e 137, la camera a cuore. La nuova comunità! La nuova comunità! La nuova comunità! Il dip La nuova comunità! La nuova comunità! Grazie a tutti